Bella raga, benvenuti in questo nuovo video, io sono Giorno Bianchi, oggi faremo una prova a non dividere i challenge. Se non ho un altro video. Scusate le voci di sotto, sono mia mamma. Ho sistemato il problema. Bola distrutta. Scusate? Scusate! 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 Oh, si è fatto malissimo! se distrutta non che mi sembra l'ombra ok ok oh ok 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 che è stronti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.